Tempo al dodicesimo apre le ostilità proprio la Romania, cross di Lacatouche dalla destra, al centro dell'area c'è Raduccio che calcia al volo ma manca il bersaglio. Al ventesimo l'arbitro concede ai rumeni una punizione per questo brutto fallo su Popescu, batte fortissimo Agi e il portiere del Camerouni, il veterano Incono, sventa in angolo. Quattro minuti dopo altra bella parata di Incono che di pugni respinge un tiro da grande distanza di Rotario. Nella ripresa sono sempre gli africani a mostrare maggiore vivacità e convinzione. Il portiere rumeno Lung interviene prima su un tiro di Kunde, poi deve uscire sui piedi di un mobilissimo Makanaki. Al tredicesimo entra per il Cameroun Milà, sarà la mossa vincente. Al trentunesimo Milà ha la meglio su Andone, forse al limite della regolarità, e batte Lung in uscita, uno a zero. Al quarantunesimo il raddoppio, Milà fa quasi tutto da solo, guardate, mezza rovesciata verso Mambic, e poi ancora Milà a prendere il pallone con un potente destro, fare secco l'incolpevole Lung. Quasi in chiusura la Romania accorcia con Balint che sfrutta una bella occasione tra due avversari. Due a uno, troppo poco. Al termine si impone la carica agonistica dei giocatori del Cameroun. Oggi...